Allora, è arrivato, come si può dire, è arrivato un bel supporto per il fatto di stabilità. Beh, direi che consolidare oggi questa amicizia, questa vicinanza con la Lombardia e pensare che questa strategia sia all'interno della macro-regione per noi significa dare respiro e ancora un segno di speranza ai 581 comuni che tentano in vano di pagare le fatture ai loro fornitori perché poi un miliardo e 300 milioni di euro bloccati a Roma e vedere cittadini che si suicidano non è proprio una bella cosa.